Una vera e propria coltivazione per la marijuana allestita, anche se in maniera casalinga, ma senza farsi mancare nulla, all'interno di un'abitazione nelle periferie di Belpasso. Lo hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri della locale stazione, grazie ad una segnalazione dell'Enel per un'anomalia ad un contatore che girava vorticosamente, troppo per un'abitazione di campagna. Così, da un allaccio abusivo del contatore alla rete della pubblica illuminazione, il passo è stato breve per far capire ai carabinieri che all'interno dell'appartamento, in via Laviano, traversa della provinciale Tre Terzi, che da Belpasso conduce al vicino centro commerciale Etnapolis, vi era molto di più. Nel corso delle operazioni, i militari hanno scoperto che in una stanza dell'abitazione era stata allestita una vera e propria serra, con 134 piante di cannabis indica, dell'altezza media di 10 cm circa, coltivate in altrettanti vasi, fornita di sistema di ventilazione ed illuminazione per favorire la crescita delle piantine. Così, i militari dell'arma hanno denunciato alla procura della Repubblica di Catania un 28enne catanese, locatario dell'appartamento trasformato in serra. Il 28enne, che in quel momento non era in casa, dovrà rispondere dai reati di coltivazione di cannabis indica e furto aggravato di energia elettrica.